Radio Ferentino, sounds different e prendi sull'acceleratore. Bene anche il servizio. Tieni molto bene la palla Marco. Sbaglia il servizio Zappagosta nel primo set Marco Talocco. Marco Talocco perché ha detto i lavori. Un'atleta all round che predilige il gioco di controllo e l'attacco. Sbaglia questa volta. Una parola che girava molto sempre da parte di Zappagosta. Di nuovo un errore Marco. Prova a caricare il rovescio in top spin Zappagosta. Non riesce. E questo è un altro bel punto. Giancarlo Zappagosta deve cercare, o meglio sta cercando di forzare qualsiasi palla. Marco recupera un po' tutto. Di nuovo è Marco a portare a casa il punto. Si gioca a viso aperto. Mi sta provando tutte Zappagosta ma Marco è lì. Che supervisione gioco. Marco sempre molto concentrato. E questa volta Zappagosta in velocità a portare a casa il punto di dritto. al servizio Marco. Bene Marco con il suo servizio velenoso. Ottima l'apertura in top spin di dritto di Marco. Un bel taglione a scendere sul tavolo. Sbaglia di rovescio Marco. Otto quattro. Sbaglia di rovescio Marco. Bene Zappagosta questa volta di dritto. Marco ha mezza distanza il recupero. Servizio veloce di dritto di Marco. Mette in difficoltà Zappagosta. Sbaglia il servizio Zappagosta sempre. Certo. 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 E porta a casa Marco anche il secondo set. Sbaglia Zappagosta. di dritto. Benissimo il top spin lungo linea di Talocco. Top spin di dritto. Di nuovo. Rete. Risposta al servizio di Marco. Spinge di rovescio Marco Talocco. 4 a 0. Zappagosta al servizio. Con l'aiuto del nastrino Marco porta a casa il quinto punto. Tenta un rovescio forzato. Fuori misura. E' ancora di rovescio Marco. Fuori il top spin di Zappagosta Marco sempre in controllo sulla partita. Cercando anche a mezza distanza dal tavolo. Comunque sempre molto concentrato. Sempre concentratissimo sull'incontro. Sbaglia Zappagosta l'apertura su una palla molto tagliata da parte di Marco. Tenta la sorpresa Marco Talocco. Non riesce. Fuori misura Zappagosta. Tutto molto veloce. E Marco si porta sul 10-2. Spinge lungo linea Marco a rete. Forza il servizio Giancarlo Zappagosta. Retina che fa rimanere la palla sul tavolo. A parte di Marco Talocco sul campo. Ed è il punto dell'11-4. 3-7-0 per Marco. Ed è il terzo punto per il tennis tavolo frentino BCC Roma. Allora. Allora.